Sindaco, lei ha scritto che sulle vicende della finanza locale, in particolare sui comuni come quello di Napoli che hanno difficoltà concrete di finanza nei bilanci, da parte del governo Conte c'è stato e c'è un atteggiamento diverso. Sulla questione dell'autonomia, enti locali, predissesso, in generale abbiamo stabilito un metodo di lavoro molto proficuo, è la prima volta in sette anni, è già un segnale importante, insufficiente ma forte, è venuto con questo emendamento in Commissione e Bilancio del Senato. Se questo è il primo prodotto di questo metodo di lavoro ci sarà buona strada da poter fare insieme sugli enti locali, noi l'abbiamo sempre detto, noi siamo per la cooperazione istituzionale, poi l'autonomia politica, le alternative, il modo di intendere alcune questioni, siamo completamente autonomi, però cerchiamo sempre la collaborazione con i governi nazionali e regionali.